Torna a Giovinazzo la tradizionale manifestazione del Palio dei Rioni, la competizione tra i quartieri della cittadina barese legati alle cinque parrocchie dai simboli araldici, la concattedrale legata al leone d'oro rampante, la chiesa di San Domenico al cane con la fiaccola tra le fauci, quella di Sant'Agostino abbinata all'Aquila a due teste, la chiesa di San Giuseppe abbinata al Lambello con quattro gigli d'oro e infine il liocorno alla chiesa dell'Immacolata. In cinque a contendersi un trofeo denominato Palio, si tratta di una formella di pietra locale usata come stemma legata alla famiglia Paglia, estinta nel 1668 e ispiratrice della gara. Come ogni anno la manifestazione si svolge in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Corsignano, patrona di Giovinazzo, che coincidono con la domenica successiva al Ferragosto. L'evento è organizzato dall'associazione Touring Juvenatium, la gara esaltante, ricca di colori e divisa in tre fasi. La prima si svolge in piazza Vittorio Emanuele II e consiste in una serie di prove di velocità. La seconda fase invece coinvolge la zona di Calaporto e la terza ed ultima è una tipica staffetta che si svolge tra il centro storico e piazza Vittorio Emanuele. E' una manifestazione fortemente voluta dai rioni delle cinque parrocchie di Giovinazzo, Sant'Agosino, San Domenico, Immacolata, con Catedrale e San Giuseppe. L'ultimo trofeo l'ha vinto la parrocchia di San Giuseppe. Quest'anno speriamo che ci sia una gara di più accanimento in modo che San Giuseppe, tre anni, è stata la parrocchia che ha conquistato il trofeo.